Qual è il tuo senso? Qual è il tuo senso? Max, è stato un buon anno, un buon senso. È stato un buon settembre, ma... solo in fine abbiamo qualcosa di ricordare, credo. Sì, la senso che abbiamo avuto questo anno è stato incredibile. Questo è stato l'ultima gara, ho provato tutto per vincere la Champions. Io ho provato a difendere il mio posto, ma non veniva per il secondo posto. Quindi è stato il primo o nulla per me. E non è successo. Ho finito il terzo in la Champions. Ma in pratica eravamo in qualificazione, non eravamo dove eravamo. E poi dopo la città eravamo in fronte. Abbiamo avuto la pre-final. E poi in la finale è stato un po' troppo lungo in pressione. E poi dopo il momento è stato un po' troppo lungo. E poi dopo la città eravamo in pressione. E poi dopo la città eravamo in pressione. Ok, se la città eravamo in pressione non succedente, potete farlo per la vittoria o non? Da la città eravamo in pressione? Probabilmente all'inizio della città eravamo in pressione. Ma era più veloce nel principio della città eravamo in pressione. C'è stato un po' troppo lungo in pressione. E spero che le tighe eravamo migliori e migliori. Ma non è arrivato così lungo. Ok, cosa sta succedendo in quella città? Potete raccontare? Sì, fuori dalla città eravamo in pressione. E ho visto che aveva molto più velocità. Quindi la città eravamo in pressione. E poi si tratta eravamo in pressione. E poi si tratta eravamo in pressione. E poi si tratta eravamo in pressione. Quali sono i tuoi plani? L'anno prossimo faremo la Formula Renault. È un nuovo progetto, quindi lo vedremo in prossimo anno. Qual è il sentimento? Abbiamo visto i tuoi tempi di lavoro. Sei molto veloce. No, i primi testi che abbiamo fatto eravamo molto bene. Due volte eravamo più veloce del tempo di posizione della città. E' ancora un testo. Ho spero di continuare così. E' ancora un testo. E' ancora un testo. Grazie. Grazie.